Il comparto idrico è tutto regolamentato e controllato dalle istituzioni. Esistono i piani d'ambito che sono ridati dagli stessi gestori e che ne evidenziano il passo economico finanziario e gestionale. Queste sono aziende molto ben organizzate. Tra l'altro il costo che il cittadino paga per lette idriche è dato da tutta quell'organizzazione che porta l'acqua ai siti industriali, all'agricoltura, alle abitazioni. Non dimentichiamo che le nostre tariffe sono tra le più basse d'Europa. Tutte queste aziende devono fare i conti con i costi, il costo dell'acquisto dell'acqua, il costo del personale e tutti quelli dell'intera gestione che impattano su tutto l'intero processo. Uno strumento di vitale importanza per loro è il telecontrollo, che memorizza tutto l'assetto impiantistico e distributivo della rete e ne dà le informazioni. Sono estremamente convinta che queste aziende sono affidate ad ottimi, a grandissimi amministratori, i quali hanno una grande cultura amministrativa e gestionale. Sono tutti elementi che esprimono per il cittadino un servizio di prim'ordine. La legge gale aveva lo scopo di industrializzare il settore, cosa che per la magna passa è avvenuta. Tanto è vero che i nostri grandi player italiani hanno egregiamente industrializzato il settore.